Scusa, devo rifare il video, che è successo qua? Fiorendina 0, Udinese 4, il calcio champagne! Calcio champagne prende 4 parole... Maronna mia! Calcio champagne, dov'è? Calcio champagne, un allenatore che deve andare in Europa, il calcio champagne! Deve andare in Europa, il calcio champagne! 0-4 in casa, e forse poteva avvenire molto, ma molto, ma molto di più! Il calcio champagne, 0-4, il calcio champagne, grande italiano, grande! Facciamo un applauso a questo italiano, che fa giocare la squadra al calcio! 80% di possesso palla, 60%, 80%, 5 occasioni, 6 occasioni... Fiorendina 0, Udinese 4, tra cui ha buscato 2-0 a Torino! 2-0 a Torino! 2-0 a Torino! 2-1 a Salerno, a stare creando solo un'occasione! E oggi ha buscato 0-4! Grande italiano, grande! Tu sì che sei un gran allenatore! Tu sì che meriti, meriti di allenare grandi squadre! Tu sì che sei un allenatore vincente! Tu sì! Bravo! Complimenti a te! Bravo! Bravo, bravo! Detto questo, senza giocatori non si vince! Senza giocatori voglia fare un cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu! Non si vince senza giocatori! Non si vince senza giocatori! La puoi esprimere quando vuoi! Puoi preparare e bere una partita! Puoi fare un'annata sì! Un'annata no! Ma senza giocatori non si vince perché se no Juve, Milan e Inter non fanno il calciomercato di estate! Milan, Juve e Inter non fanno il calciomercato di estate! L'Atalanta è la stessa cosa! Il grande allenatore Vincenzo Italiano! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano! Sono un italiano! Paraparaparapara! Un italiano, vedi? E attiva a dormi, cammini! Andate a dormire che il calcio è un altro sport! Andatevi a dormire che il calcio è un altro sport! 0-4! Vergognati!